Salve a tutti ragazzi, sono Bertra e bentornati su Bertra Reaction, l'unico canale dove carico anche se è quasi Natale Tanti auguri, pezzi di merda, fatemi un regalo, datemi 500 euro su Paypal C'è anche il gatto che vi fa gli auguri, ciao, 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 è quasi Natale Uuuuh, Fito rompe il cazzo, mi sembrava Oggi siamo qui a goderci i coinquilini di merda, quelli brutti, quelli laidi, quelli che soprattutto non fanno vivere bene Non so se voi avete coinquilini, io li ho avuti, in realtà è andato abbastanza bene Ma vivere da solo è oggettivamente molto meglio Quindi prima di partire mi raccomando passate dal primo canale perché sto caricando dei video veramente belli Cioè raga io vi giuro non so come dirvi quanto belli siano E se non li andate a vedere siete dei tacchini a reazione, proprio Passate da Instagram Ogni mattina il mio coinquilino di merda compone pazientemente il suo letto utilizzando pupazzi, giocattoli e amenità varie Che dispone in modo sempre diverso A volte l'orso suona un mandolino, a volte come in questo caso legge un libro Dopo anni di convivenza ancora non so dire se il mio CDM sia semplicemente un nerd di proporzioni bibliche o un potenziale serial killer Considerando com'è il resto della stanza e considerando quanto sono grossi stipo pazzi Palesemente uno che ammazza le persone di notte Ha due unicorni ciccioni rosa, un piccolo leone, un piccolo orso polare, un gigantesco orso di pezza e un sacco di piccoli accessori E soprattutto le lenzuola con quelle rose lì terribili No posso dire, posso dire bocciato come coinquilino, bocciato come essere vivente, scappa finché puoi Ma corri proprio, scappa velocissimo Rientro da una lunga giornata di lavoro, vado in cucina e trovo questo La coinquilina di merda francese ha fatto un calco in gesso della sua vulva e l'ha messa in forno Quando le chiedo quando posso usare il forno mi risponde Non puoi usare il microonde se no le grandi labbra si sformano Cristo Gesù, a parte grazie per avermi fatto vedere una fessa di gesso Come prima cosa oggi stamattina, sono le 9 del mattino E devo vedere questa fessa di gesso e non sono felice Secondo, che minchia di regalo è? Guarda, l'ha messo pure su un coso di vetro a forma di cuore Io sono annichilito, farò subito il calco del mio pisnello così posso regalarlo anch'io 25 euro se volete il calco del mio pisnello Sarebbe un grande business Comunque si può chiamare patata al forno Madonna, sono un cinquantenne Mi trovavo in Irlanda per un corso di inglese e vivevo con una ragazza americana E già qui, grave errore Una mattina mi alzo e vado in bagno e questa è la scena che mi ritrovo davanti La giacca fradicia della mia coinquilina Una sola scarpa, le sue chiavi, il suo zaino e delle patate bollite sul pavimento Ma che cazzo? Quando esco dal bagno mi accorgo che la scena di patate bollite continua anche sulle scale nel corridoio fino ad arrivare in cucina E che la patata non erano le uniche verdure ma c'erano anche dei broccoli lessati qua e là Quando domando alla mia coinquilina cos'era successo Lei mi risponde di non ricordarsi assolutamente nulla della sera precedente Ma che probabilmente aveva un po' fame perché si è svegliata con delle patate anche tra le lenzuola Fra, anche meno, anche meno Allora mi fa molto ridere la singola scarpa, quello zaino lì e poi quelle tre patate in fila Onesto, mi sembra una bella serata, sicuramente sei divertita Ieri sera sono andata in bagno, prima di sedermi ho guardato il gabinetto Questa è la scena che mi si è presentata Non uno ma due ovetti E lì, la tua coinquilina o il tuo coinquilino hanno cacciato fuori l'ovetto Raga, succede, hanno deposto delle uova Poi che il cesso non sia il posto migliore per far nascere i tuoi pulcini Sono d'accordo, però è andata così Oppure hanno fatto il test del vedere se un uovo è andato a male o meno Quello di metterlo in acqua e si galleggia sta bene, se no è andato a male, era così, vero? Solo che si sono dimenticati che l'acqua del cesso non è un'ottima idea L'hanno abbandonati lì Tutto calcolato ragazzi, tutto qui dentro Qui c'è un brain che noi ce lo sogniamo la notte Vorremmo essere così intelligenti Questa notte Daphne, la mia coinquilina di merda belga È tornata a casa ubriaca con la sua amica Veneta Aurora Erano le due del mattino e hanno deciso di farsi una pasta con la polpa Mutti Nel frattempo Aurora ha fatto a Daphne un corso accelerato di bestemmie in italiano Che lei ha imparato immediatamente e ha continuato a ripetere ad alta voce tutta la notte Allora, sembra una casa molto divertente, posso dirlo Alla riunione notturna si è aggiunto anche Giuseppe Che rientrando verso le tre ha colto l'occasione per insegnare il termine Escili alla coinquilina Che non capendo bene l'italiano continuava a bestemmiare gridando Stamattina le condizioni dei fornelli erano quelle che potete vedere di seguito Allora, complimenti perché non so come abbia fatto ad arrivare tutto quel pomodoro in giro Cioè sono il primo che quando fa il sugo ogni tanto un pochino fa E va in giro Però questo è veramente un... Un tocco di classe, devo dire E soprattutto il corso di bestemmie Arbaccio Un tocco di classe anche quello notevole Sono stato a letto una settimana per una polmonite Mi alzo per dare una pulita in casa e trovo questo Sembrava quasi che potessi accarezzarlo come un cagnolino Minchia! Io sotto sotto vorrei provare a toccarlo però Dai, sembra tedero È un tocco di muffa Veramente vivo Come lo chiameresti? Lo chiamerei Jerry Ha la faccia da Jerry Che carino, dai È tenero, io li voglio bene Secondo me potrebbe essere un amichetto carino Mattina Al mio risveglio trovo la porta conciata in questo modo Vado subito dal coinquilino di merda a chiedere spiegazioni Assonnato e biascicante Non ha problemi ad ammettere che l'ha sfondata lui a calci Ho citofonato mezz'ora e non mi ha aperto nessuno Cosa volevi che dormissi fuori al freddo Minchia! Posso dire? Che paura! Che cazzo di calci prepotenti ha quest'uomo Per riuscire a sfondare una porta Ok, non è una porta di sicurezza incredibile Però comunque Oh, ha sfondato il muro Ha sfondato i chiodi di ferro Complimenti! Ciotto lui Ma mi spieghi come cazzo fai a non svegliarti Se ti sfondano la porta a calci? Cazzo vorrei dormire io bene così tanto Niente Non ha fatto una piega lui Zero E neanche i vicini Nessuno ha fatto una diega per dire Boh, era notte l'ho sfondata a calci La gente dorme Si sveglia sentendo l'apocalisse Niente Il mio CDM tedesco vuole convincermi che è giusto mettere le scarpe in freezer per sterilizzarle Alle mie obiezioni mi dice di non preoccuparmi perché i microbi muoiono di freddo La scarpa nel freezer che è schifo comunque Mamma mia la cosa più antigienica che riesco a pensare Veramente uno sbocco notevole Complimenti al coinquilino tedesco Notevole Una bella passata di pomodori Una bella zuppa di quelle surgelate con un po' di terriccio delle scarpe Ha quel gusto di terra in più Nella mia prima casa c'era una coinquilina di merda notevole Convivenza mediamente allargata, solo 5 A presenza prevalentemente femminile con un unico coinquilino maschio che cambiava intervalli brevi e regolari Perlomeno fino all'ultimo uomo che con la coinquilina di merda si è fidanzato e ci ha successivamente figliato Ok, bella notizia Comunque mediamente allargata a 5 persone, porca puttana, è gigantesco Comunque storie d'amore a parte Nella casa vigeva una rigida suddivisione dei lavori Che era stata sancita dalla tavola delle regole Una lunga lista di regolamenti appesi in cucina Io ne ho contati 35 Per l'amor di dio, che fatica a vivere così Che enorme fatica La seconda regola era Lascia gli spazi comuni come li hai trovati Che per la mente normale dovrebbe significare Lava i piatti usati, riordina, eccetera Sì, che è tipo la base Ma vabbè, tutto bene, tutto a posto Finché non cominciano a sparire i piatti Poi le pentole e le posate Siamo tanti in casa Non si capisce dove possa essere finito tutto Ad un certo punto la CDM Quasi sempre fuori per i mille lavori che faceva Lascia la porta della sua stanza socchiusa E si scopre tutto La suddetta, dopo aver mangiato Non aveva voglia di lavare i piatti E, per non contravvenire alle regole Nascondeva i piatti nella sua stanza Lasciando così gli spazi comuni effettivamente puliti Anche davanti all'evidenza La CDM continuò ad argomentare Sostenendo che La regola era espressa male E lasciava sufficiente spazio A diverse interpretazioni Ovviamente il maltolto è stato restituito E il giorno dopo è stata aggiunta la postilla I piatti vanno lavati subito dopo l'uso Ah, ovviamente la CDM di questa storia ero io Ah, che fallita che sei Che schifo comunque Tutti i piatti nella vasca da bagno Ma siamo fuori di testa Che sbocco, raga Dopo una settimana lì c'è un ecosistema Che Jerry di prima in confronto è E' veramente un animale domestico Qui trovi le larve lunghe così Che ti mangiano un cervello Il coinquilino di merda ha utilizzato Per la prima volta la pentola a pressione Ecco il risultato Ma che cazzo Com'è possibile? Ha sfondato il piano cottura sotto Sfondato la cappa Il coperchio si è infilato nel soffitto Non era una pentola a pressione Era una bomba improvvisata Mio Dio E' pericolosissimo Dora in poi guarderò le pentola a pressione Con un occhio di riguardo Perché il terrore Per Dio Location Argentina Casa condivisa Personaggi Io Un tedesco Uno spagnolo E due ragazze francesi Una barzelletta Situazione Pulizia Rispetto Silenzio E privacy Completamente inesistenti Un giorno rientro a casa E trovo un rospo in bagno Che aveva trovato un habitat perfetto Negli stracci da pavimento Che i coinquilini Usavano come scendidocce E lasciavano ammucchiati E fradici Ad ammuffire in un angolo E' stato comunque Il coinquilino Più tranquillo e pulito Che carino Sto rospotto E' bellissimo Io vorrei farci amicizia Vado lì e faccio Eeeh Rospio Ieri all'affannosa ricerca Di qualche spicciolo Per le sigarette Ho spostato i cuscini Del divano Dove abitualmente Si trova seduto Il mio coinquilino Di merda Questo è quello che ho trovato Un mucchio di sigarette Un accendino Una carta dei preservativi E Non so cosa sia Quella roba gialla Però mi fa paura Secondo me se scavi bene Qui tra parentesi Scusate Pausa Ci sono delle macchie Nell'incavo in mezzo Lì anche Cazzo i fanno Ci pisciano dentro Ci sburrano tutti i giorni Che schifo Con tutto il bene del mondo Non è recuperabile Fermamente intenzionata A fare un picnic La coinquilina Non si lascia fermare Dal maltempo E decide di spargere Dei tubetti di plastica Verdi in salotto Simulando così Della piacevole erbetta Allora non so se sia Genio puro Ma genio a un livello Incredibile O la cosa più folle E preoccupante Della vita A voi la scelta raga Non so dove sia È da qualche parte Su questo spettro Cristo Dio È proprio brutto È triste Mamma mia Poi ci sono degli oggetti strani C'è un gigantesco cestone Pieno di bottiglie Una ciotola del cibo del cane È tutto così confuso Sono annichilito È bellissimo Informo la mia cdm olandese Che abbiamo un'infiltrazione Nel soffitto del bagno Lei mi risponde Di non preoccuparmi E che ci penserà lei Al ritorno dal lavoro Trovo questo Oh Io non vedo più acqua Su la testa Non ti può piovere in testa È preciso Se vai fuori di casa E piove Cosa fai? Metti un ombrello O cerchi di riparare tutto? No ovviamente Metti un ombrello Quindi funzionerà anche per dentro Io non vedo errori qui Assolutamente preciso Ieri sera il coinquilino di merda Ha deciso di prepararsi Un rinfrescante frappè al cioccolato Questo è il risultato Ehm Come Com'è successo? Cosa è successo? Perché è successo? Non capisco A parte la condizione generale Della cucina Che mi sembra bella caotica Però È riuscito a lanciarlo Veramente ovunque Ma Raramente ho visto Spazi così coperti di cioccolato È da 2 girls 1 cup Che non vedevo così tanto cioccolato in giro Veramente un disastro Il coinquilino Vama a spalancare le finestre Per tutta la notte Questo è quello che ho trovato stamattina Prendo la porta del bagno È piccion Il povero piccione che ha deciso Boh questa è casa mia Bella raga Roma Questo è lo stratagemma Escogitato dal mio coinquilino di merda Per combattere i piccioni Che invadono il nostro balcone Il cartonato del gatto A sto punto meglio Il cartonato di Boh Vin Diesel Di The Rock Cazzo il cartonato del gatto No Fate un cartonato mio per favore Cazzo desidero un mio cartonato Sono un egocentrico bastardo Poi me lo metto tipo in camera E mi guardo la notte Fine agosto Caldo imperiale Mi sveglio la mattina presto Per studiare l'esame di anatomia Che avrei avuto nel pomeriggio Vado in cucina E prendo il mio cartone di latte Noto come invece La bottiglia di latte Della coinquilina di merda Dopo ancora tre settimane Si è ancora nel frigo Mmm Latte Cioè formaggio Faccio colazione E vado a studiare Un'ora dopo Si alza lei Prende il latte Che stava in frigo Da tre settimane E pensa bene Di berlo lo stesso Sì ma non è berlo È mangiarlo È tutto Grum Che brutta immagine Di lì a un'ora La CDM bussa alla mia porta Come un colorito di uno zombie Dopo essermi consultata Con mio padre medico Decido di aspettare un po' Per vedere se vomitava da sola Se ciò non fosse successo Avrei dovuto portarla Al pronto soccorso Mio padre Mi disse anche di annusare il latte E dirgli se era tanto mefitico Diligentemente Vado in cucina Mi avvicino alla bottiglia vuota E quasi vomito io per l'odore Mi dice di aiutarla Con il vecchio rimedio Della limonata calda In tutto ciò Mancavano tre ore all'esame Che animale Madonna Sta con inquilina Cioè che schifo Ma te ne accorgi Che non dovresti mangiarlo Berlo Le faccio la limonata Dovendo anche andare a comprare limoni Gli la servo a letto Dove era cartocciata dei crampi E mi dice No grazie La limonata mi fa proprio schifo Non è molto furba E sta qua Fortunatamente Il signore ha voluto Che dopo venti minuti Andasse in bagno a vomitare Perfino il fegato Sapevo che la sua vita era salva Sapete poi cosa mi hanno chiesto all'esame Lo stomaco e il riflesso del vomito Ho preso 30 Vabbè dai easy Grande Anatomia poi Di tutte le cose A me è successo di Dimenticarmi del latte E trovare delle cose Però si prende Si butta nel cesso Vomitando un po' Perché fa tutti i pezzettoni Sicuramente non lo bevi Sicuramente no Oggi ho sorpreso il mio CDM Intento a schiacciare la spazzatura Nel bidone di fronte a casa Non ci stava più niente Ha affermato E poi con il piglio ecologista Ha aggiunto questo perché la gente Non schiaccia le bottiglie di plastica Prima di buttarle Pure con la chiappetta di fuori Un vero ecologista poetico lui Il CDM ha deciso di testare L'impianto elettrico Con questo nuovo esperimento Vuole vedere se il salvavita È abbastanza reattivo Ma che cazzo vuole morire? È tipo la prima cosa che ti insegna Non mettere le forchette nelle prese Questo decide di mettere Un'intera gruccia Mio dio Sicuramente il vestito sarà Elettrizzante Dopo questa chiudo il video però Elettrizzante Elettrizzante